però questo è backstage questo è backstage questo è backstage ragazzi non abbiamo la truccatrice anzi sì che ce l'abbiamo taglia devi fare l'effetto ma in realtà non abbiamo la truccatrice non abbiamo nemmeno la truccatrice non abbiamo nessuno ragazzi momento backstage questo cazzo sta non lo vedo da qui comunque la corrente guarda che piccoloni che si avvicinano ce l'abbiamo ce l'abbiamo ce l'abbiamo ok grazie a tutti grazie a tutti